Io mi chiamo Berrutti Giancarlo, nel 1974 avevo 35 anni, come lavoro ufficiale ero ferroviere e come lavoro politico, ma di passione soprattutto, in quel periodo ero nel comitato direttivo provinciale della Federazione Comunista di Savona. Come incarico avevo, allora erano settori, si chiamava stampa e propaganda, ed ero molto impegnato, molto impegnato, festa dell'unità, ma non solo, c'era una serie di pubblicazioni che facevamo, la nostra voce, ad esempio. Per quanto riguarda le bombe, per venire al tema, diciamo che io l'ho vissuta dall'interno della Federazione. All'inizio sorpresa, naturalmente, e come Federazione so che l'indicazione è stata subito quella di lavorare per realizzare il comitato antifascista provinciale, perché si è capito subito che era un problema importante e che bisognava coordinarlo. Questa è stata un po' la questione. Tanto volevo prima di tutto ricordare cos'era il PC all'epoca. Allora il PC a Savona era, senza problemi dismentita, una potenza, contava, contava molto. Avevamo 14 sezioni distribuite in tutti i quartieri, c'erano poi quelle di fabbrica e quelle di territorio. Avevamo 3.800 circa iscritti, che è tanto, in una città di 60.000 abitanti. Se poi si aggiunge il sindacato, che non era la cinghia di trasmissione del partito, però non era neppure un ente separato, il rapporto era continuo. C'era anche uno scambio di dirigenti da questo punto di vista. Poi c'erano le società di mutuo soccorso, dove i presidenti erano tutti comunisti. I volontari, il partito si sentiva a Savona. Ed è per questo che il discorso che era venuto fuori, un'ipotesi che era venuta fuori, era che queste bombe erano state un tentativo di vedere come reagiva una città di sinistra, chiaramente di sinistra, con una tradizione comunista, eccetera, eccetera, come avrebbe reagito a un attacco di questo genere. Anche perché era un attacco originale da questo punto di vista. Nel senso, non era la bomba di Piazza Fontana dove ha fatto un mare di morti, eccetera, eccetera, o l'Italicus, anche lì. Lì era proprio, sembrava che, io lo credo che fosse stato, un tentativo di creare terrore. Abbiamo avuto un morto, no? Rispetto a quelli che ho detto prima, due. Rispetto a quelli che ho detto prima, nemmeno lontanamente. Però il meccanismo era diverso. Ed è per questo che si diceva, si pensava che fosse, come avrebbe reagito una città di fronte a questi atti di terrorismo. E la città ha agito in modo splendido, che credo che più di così non si potrebbe e credo che mai più si potrà rifare, proprio per quella rete che c'era, di solidarietà, di solidarietà e di direzione, perché c'era una direzione forte. Era il Presidente dell'Ampi, Urbani in quel momento, poi di altri nomi non ricordo. So che in federazione ogni volta si discuteva, si faceva, si prendeva contatto con il comitato. Era poi, parlando di Scardaoni, parliamo del segretario della federazione. E queste bombe che si susseguivano sono state una cosa estremamente preoccupante. La reazione, credo che già molti ne abbiano parlato, è stata intanto unitaria, perché le sezioni e le parrocchie lavoravano assieme. C'è stata una partecipazione, non solo quella organizzata, ma spontanea, e credo che l'elemento di spontaneità è la questione più importante che ci sia stata, perché andavi in sezione e c'era la vicina di sopra che portava o il caffè o la torta, c'era un meccanismo. L'elemento più impegnato era attorno alle scuole. S'è fatto anche, sono fatti alcuni tentativi per le fabbriche, anche per la ferrovia, direttamente, questo lo so, però non è durata quella questione lì. Mentre invece per la scuola, lì la questione era veramente scientifica. Un aspetto che se lo facessimo oggi ci sparano, ci denunciano, è che chi faceva vigilanza, che era la mamma, il papà, e passavo io con una borsa, mi fermavano, mi potevano fermare e dire cosa c'è lì dentro la borsa? Una cosa impensabile oggi, se non te lo dice un funzionario, un poliziotto, no? Invece lì e sta gente apriva la borsa, perché c'era proprio una solidarietà totale, completa da questo punto di vista. Devo dire che c'era una preoccupazione in federazione, che era quella che il livello era tanto alto quanto poteva durare. Questa era un po' la questione. Io non so se fortunatamente o meno siamo arrivati alle vacanze di Natale, le scuole chiuse e questo ha calmato la cosa e si è assorbita. Diciamo che la sede del partito, ma lo stesso la parrocchia, non è che doveva dire domani c'è l'assemblea per le bombe, che l'avrà anche detto, ma c'era proprio una spinta, si sapeva che per fare la mia parte, per collaborare, per fare la vigilanza, andavo in sezione o alla parrocchia e mi mettevo a disposizione. E di lì nasceva la questione, che era prima spontanea, poi organizzata, andava avanti, se non ci fosse stato quel collegamento lì, non poteva essere una cosa solo organizzata, assolutamente, durava tre giorni, perché quello organizzata fai la manifestazione, poi finisce lì, ma il fatto che è durato un mese, più di un mese, vuol dire che c'era una collaborazione, una disponibilità, dove c'era anche una sua organizzazione e credo, perché poi c'erano da fare i turni, se io lo facevo dalle 10 a mezzanotte c'era un altro che da mezzanotte lo faceva sino alle due o alle tre, perciò ci voleva uno e l'altro. Il miracolo è stato questo, che per quel periodo si è avverato. In ferrovia anche lì abbiamo organizzato per alcune notti dei turni, però la ferrovia è tanto ampia che non… io dove lavoravo io, che era lavagnola, lì si è provato a fare qualche servizio notturno, l'ho fatto due o tre notti e poi si è fermato, perché fra l'altro era gente che poi all'indomani lavorava, era il comitato provinciale che si rapportava con la prefettura, con i partiti più in generale, perché anche lì io ho parlato del partito comunista perché c'ero io, ma la democrazia cristiana non è che fosse da un'altra parte, il fatto dalle parrocchie di questi settori partecipavano, c'era un'unità, c'era un'unità, si capiva che c'era un attacco verso tutti, verso Savona, non verso un gruppo, una persona, un partito, era un attacco a Savona e per questo continuo a ripetere che a mio parere quel discorso che è stato una prova di come reagiva una città da parte di chi non si sa, si parla sempre dei servizi deviati, questo non lo so sino un fondo, ma è qualcosa di questo genere, perché poi non è più successo da nessun'altra parte una cosa di questo genere e può darsi che la risposta che c'è stata abbia fermato questa idea di andare avanti. Intanto poi sono finite le bombe, bisogna cercare chi l'ha messa, però noi ci sentivamo vincitori, il fatto che sono bloccate queste bombe, eravamo soddisfatti della reazione che c'è stata, poi certo, però dato che la magistratura le risposte le dà comunque dopo anni e allora poi la cosa muore lì e lì per lì c'è rabbia, però poi si aspetta, perché poi diceva vabbè non è finita, ma la cosa era di soddisfazione che Savona ha risposto, questo credo sia la cosa più importante. Per trovare quelli di Bologna, dell'Ictalicus, quanti anni ci hanno messo? 30, ma tutti gli anni fanno la manifestazione perché non hanno trovato tutti i colpevoli, ogni anno la fanno a Bologna, questo è un problema certo della giustizia italiana, è un problema, però a dire che non ho più fiducia nelle istituzioni ci mancherebbe, al momento che non hai più fiducia nelle istituzioni è finito tutto, ed è un falimento tuo anche. Alla festa dell'unità nazionale di Firenze nel 75 c'erano due star, una era Savona e l'altra era a Brescia. Allora la festa dell'unità era preceduta da un corteo e è andata avanti per anni, ogni federazione si organizzava come voleva, con i propri striscioni, con tutto quello che si vuole. Il problema era che alla fine diventava troppo grande questo corteo, non finiva mai, non finiva mai, tanto che c'erano poi problemi anche la viabilità, tanto che alla fine anche quando c'erano le feste importanti, adesso sono un'altra cosa, non l'hanno più fatti. Noi quell'anno lì, nel 75, abbiamo fatto una cosa proprio straordinaria, dato che c'ero io in prima persona a mettere assieme queste cose. Abbiamo, siamo andati con un compagno dell'ente turismo, io e questa persona, Fran Cieri si chiamava, siamo andati a Firenze a gennaio e per prenotarli c'era un sistema di affitto camere, di 5 o 6 camere in un condominio, 5 o 6 nell'altra città e però erano organizzati. Abbiamo prenotato 600 posti a dormire, 600 e di conseguenza abbiamo portato 600 persone su 12 pullman, più c'erano quelli che andavano un treno che andavano un macchina, perciò Savona aveva persino portato un'orchestrina su un camion e c'erano sti striscioni, quello che ho portato la fotografia era di 12 metri. Una caratteristica importante era che una parte grande di questo corteo, ognuno avevamo dato un cartellone, che era Comitato Antifascista Fornaci, Comitato Antifascista Leggino, Comitato Antifascista Spottorno, Celle eccetera, e c'era un mare di questi cartelli ed era il momento dove più battevano le mani. Ecco, quello lì credo che sia stata la partecipazione savonese fuori da Savona più grande che ci sia mai stata. Questo è stato un po' una cosa che la ricordo volentieri che pensava di farla adesso, ma cosa li paghi alla gente? Anche perché c'era il pullman, ma ognuno versava la sua quota, per capirci. Eravamo abbastanza rigidi i soldi, non si buttavano tanto facilmente. Quello lì era il periodo forte dei quartieri, dove c'era veramente un'organizzazione e lì fra l'altro era nel periodo dove il Presidente non prendeva nessun contributo. Poi è venuta dopo quella ufficiale, lì erano anche quelle cose spontanee, votate, si votava al Presidente, si votava tutto, però in modo di volontariato. Questo era un po' la cosa. Bisogna tenere conto che dopo il 74, è venuto il 75, il 76, che è stato il boom del Partito Comunista. 75, 76, però questo è stato il momento. Per quanto riguarda Savona, evidentemente in Consiglio Comunale avevamo o 17 o 18 consiglieri su 40. Poi siamo arrivati fino a 19 consiglieri con il sindaco Scardaoni. Questo è stato un po' nell'84, 85, non so, perciò c'era una forte presentanza in Consiglio Comunale. Ma certo queste iniziative hanno aiutato, ma eravamo nell'onda, eravamo nell'onda. Quando si parla della manifestazione, si parla della manifestazione organizzata dai sindacati, mi sembra che avesse parlato Macario, se non ho sbaglio era Macario. Una curiosità, sempre legata al PC, se guardate le foto, perché si è conclusa dalla Prefettura, se guardate le foto vedrete che in mezzo alle palme, non c'erano ancora tutte queste, ma ce n'erano tre o quattro già palme, c'è un cartellone, iscriviti al PC. Quel cartellone non è stato messo lì per la manifestazione, perché non lo sapevamo, però quel cartellone l'ho fatto fare, era una cosa di tre metri, per due metri e mezzo, c'è la fotografia, l'ho fatto fare per il lancio del tesseramento, il tesseramento allora del PC era i primi giorni di ottobre, la prima settimana del tesseramento e io in quell'occasione lì ho fatto fare quel cartellone. Poi siamo andati, l'abbiamo montato anche lì, oggi pensare una cosa di questo genere, indipendentemente di quello che c'è scritto, però siamo andati, la cooperativa Dile ci ha montato i tubi innocenti, io e altri due abbiamo messo i cartelloni e ci avevamo questo cartello, perciò nella manifestazione finale, se guardate, c'è questo cartello. l'ultimo scoppio, l'ho sentito che ero nella soffitta della federazione, in via Palle Ocapa, ero lì che non so cosa facesse, ed è, ho sentito l'ultimo, l'ultima che era quello del tralicio credo, quella l'ho sentita di lassù, forse essendo alto si è preso bene nell'aria. Ho pensato, andiamo avanti, la cosa non è finita e poi fortunatamente è finita.